I primi lavori alla Marina? I primi lavori purtroppo i tempi non sono velocissimi quando non si attivano procedure di somma urgenza. La somma urgenza è proprio una dicitura del codice degli appalti, delle procedure che si attivano in caso di pericolo per incolumità della vita umana. Non è quello il caso ovviamente, quindi abbiamo dovuto distogliere dei fondi dal cosiddetto fondo di riserva e finanziare i lavori. Sono primi lavori, un paio di settimane dovrebbero durare, di messa in sicurezza delle parti più ammalorate, dopodiché bisognerà fare qualcosa di più importante, soprattutto sul molo di soprafflutto a protezione dell'anfiteatro che non esiste più.